Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oggi torniamo a giocare a Let's Make a Social Team Senza troppi indugi andiamo a giocare il ritorno tra Ancona e Napoli Iniziamo la partita Buonasera a tutti, benvenuti al grande incontro di stasera 21 gradi Facci dino Ciao Fabio E' bella sottiava 2 metri 3 Maniro, l'altezza di Maniro Dai ragazzi, dai Bellissimo Adesso una palla corta in avanti Abbiati Gioca una palla corta lateralmente Figlioli, vai figlioli Radicati Capasso, dai dai dai, andiamo in attacco Su Totti 2 Riusciranno a creare un'azione d'attacco? Eh, me lo chiedo anch'io Eh, me lo chiedo anch'io Su, dai ragazzi, su E' del portiere, nessun problema L'ampugna Ampugnato il pallone, l'ampugna Passiamo oltre Intercetta senza problemi E' stato molto veloce Su questa palla Vai, 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 vai Bertoto Fellini Chiappa da Fellini Colli 1 Afez Afez Capasso 6 Buona pressione Cirluia Cirluia Fellini Chiappa Fellini Chiappa Fellini Chiappa Fellini Chiappa Fellini Bella Mezzano Totti Rosati Non è il caso di correre rischi adesso 6 Vediamo più veloce Vai, vai, abbiati Vai, Bertoto Vai, Bertoto Uhhh Totti, figlioli Goal Goal Figlioli Grandi Ecco il replay E che rete Che colpo stupendo Fa sembrare tutto così facile Che capocciata in tuffo 1 a 0 per noi Ancora la possibilità di recuperare Più il gol dell'1 a 0 dell'andata Siamo messi bene Occhio Occhio in difesa Dai ragazzi Vanzo Bravo Colli Rinvia su Veloce Non perdiamo tempo Dai Giochiamo Giochiamo Rosati Vai Attacca Rosati Bella per Bertotto Abbiati Per figlioli Vai figlioli Vai figlioli La grossa L'ampugna L'ampugnata di nuovo Finisce il primo tempo Il Napoli Ha un gol di vantaggio Dai 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 Il passaggio del turno È solo una formalità Iniziamo subito Il secondo tempo Vai abbiati Vai abbiati Vai abbiati Rassegna il fallo Il calcio di punizione Molto in un tanto della polpa Cercheranno ugualmente di far gol Tutti a difendere le loro posizioni Manda la palla in diagonale E il cross è stato intercettato con facilità Benaglio Capuana La passa indietro 22 30 Fennini Il Napoli Cerca il possesso della palla 14 Abbiati Riusciranno a creare un'azione ad attacco Ora 10 Vai figlioli Gioca larga Bertotto E basta Lo ripeti sempre E la palla va dritta Vai figlioli E adesso chi la prenderà e se la porterà via E basta Si è cantato il disco E' stato molto veloce su questa palla E adesso chi la prenderà e se la porterà via Ma chi sei credito Caressa Radicati figlioli Figlioli Che ti sei magnato Che ti sei magnato Che ti sei magnato Sì proprio grandico Poteva fare meglio Non ha sfiorato nemmeno il palo Buona pressione Prendono tempo Non riescono a portare avanti qualche attacco Dai 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 Sembra avere il controllo della situazione metaclera Totti Abbiati Totti Sul mio cronometro 78 minuti Il portiere prende la palla Dai manca poco E festeggiamo La vittoria Serlio Mai nero Uuuuh Bella parata Benaglio Benaglio Chiappale Chiappale No Quindi è pareggio Quindi è pareggio Serlio Vabbè però per il gol dell'andata Siamo ancora noi su Siamo ancora noi su Dai 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 Ora occhio Mancano due minuti Più recupero E infatti Abbiati Gioca una palla corta Fiori Sembra avere il controllo della situazione metaclera Per totto Per totto Vai Radicati Dove stai andando Radicati Bravissimo Viene ammonito dall'arbitro Si è guadagnato un bel calcio di punizione Viene ammonito dall'arbitro Non ho visto cartellini Nooo si è fatto male a Radicati Lancona Vuole fare una sostituzione Rosati Finisce Passiamo a lui Nooo si è guadagnato Il Napoli Ha ottenuto un pareggio Ed era tutto quel che serviva alla squadra per accedere alla fila Dai dai Dobbiamo stare attenti però perché questo gol subito al finale Poteva complicare le cose però grazie alla vittoria dell'andata Oggi abbiamo assistito a un calcio davvero eccezionale Siamo passati Vediamo allora Il numero di visitatori era in 7000 Premi per vittorie 50.000 Le quattro squadre in lotta per la promozione hanno completato il primo turno di playoff Risultati Genova-Venezia 1-1 E ancora Napoli 1-1 Ora Venezia affronterà Napoli in finale Quindi Venezia Ostacolo Venezia Che andremo a giocare nel prossimo episodio Se non volete perdervi il continuo di questa serie Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Attivate la campanella Per non perdere i prossimi video Ciao